Salve a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Max, per chi non mi conoscesse, e siamo qui per discutere di una discussione a sua volta, ma in realtà è una statistica, perché almeno uno su tre diciamo che almeno una volta nella vita ha discusso con e per conto dei vicini. Allora, attenzione perché spunta fuori anche il caso delle cause più comuni, tipo che è il rumore che può dare fastidio ai vicini. L'ultimo caso c'è stato ieri proprio nel Casertano, quando un uomo ha cosparso di benzina una donna e la sua auto dopo una lite condominiale, sapete per cosa? Per delle gocce cadute inavvertitamente nel balcone sottostante. Ma, seppur rimangano limitati i casi estremi riportati dalla cronaca, i dissapori tra vicini sono tutt'altro che dei casi isolati. Un italiano su tre conferma infatti di avere avuto almeno una volta una lite o un'accesa discussione con il proprio vicino di casa. Un dato che arriva dall'ultima ricerca di Ipsos commissionata da Cenges Unipol, con l'obiettivo di fotografare i rapporti di vicinato degli italiani. Se da nord a sud nessuno è al riparo dal rischio di finire ai ferri corti con i propri dirimpettai, a mutare, lungo lo stivale, sono soprattutto i motivi del contendere. Città che vai insomma, litigi che trovi nonostante a farla da padrone siano sempre il rumore, e 29%, e i comportamenti sgraditi dei condomini e 27%. A Napoli, ad esempio, il 27% degli intervistati dichiara di discutere per i parcheggi selvaggi in strada. Ma nella classifica partenopea, tra motivi di polemica, entra anche l'installazione di sistemi di sicurezza e 9%. Nella capitale, invece, il pomo della discordia è rappresentato dagli animali domestici e 21%, anche se pesano le decisioni in materia di interventi in casa, e 16%. Un tema quest'ultimo che accende gli animi a Verona, conquistando il podio con il 24%. A Bari si litiga per i ritardi nei pagamenti delle spese condominali, e 23%, ma anche per l'ostruzione di ingressi e pianerottoli, e 15%. A Torino e Cagliari, e entrambe con il 18%, la nota dolente è quella della raccolta differenziata, mentre a Milano le scintille con il vicinato scattano sulla gestione delle biciclette, come testimonia il 14% degli intervistati. La stessa percentuale che registra a Firenze quando si tratta di manutenzione del giardino. Tra le città analizzate, alcune sono più litigiose di altre. La maglia nera va a Napoli, con il 37% di esperienze di discussione con il vicinato, tallonata da Roma al secondo posto con il 34% e al terzo posto Cagliari con il 33%. In vetta tra le città più pacifiche, invece, Firenze è 21%, Milano è 25% e Verona è 25%. Sempre in base ai dati della ricerca di Cenges Unipol, elaborata da Ipsos, Bologna resta l'area metropolitana più attiva nelle relazioni di vicinato, e il 61% indica almeno una volta a settimana, mentre Roma e Torino emergono per la maggior quota di assenza di interazioni, con il 24% e il 21%. Subito dopo la città delle due torri si posizionano Firenze, il 47%, e Napoli, il 44%. I Romani restano i più scontenti, il 64%, seguiti da milanesi, il 56%, e i napoletani, il 52%. I principali motivi di insoddisfazione sono legati alla scarsa capacità propositiva dell'amministratore per la risoluzione dei problemi condominali, il 36%, la non soddisfacente gestione amministrativa, il 34%, ma anche la percezione di una certa distanza dalle esigenze dei condomini, il 34%. Non solo città, anche l'età fa la sua parte. La generazione che ha avuto più di frequente scontri con i vicini e la generazione Z, è 16-26 anni, con il 39% di esperienze di discussione con il vicinato, mentre i meno litigiosi sono i baby boomers, i 57-74 anni. Medaglia d'argento per la generazione decima, i 41-56 anni, con il 35%, mentre i millennials, i 27-40 anni, si fermano al 34%. Il rapporto di Ipsos fotografa, però, ha anche l'altra faccia della medaglia. La generazione Z è quella ad avere i rapporti più frequenti con i propri vicini di casa, il 48%. Percentuali simili si riscontrano tra i baby boomers al 45%, mentre la generazione decima presenta il 33% di frequenza complessiva. Le minori interazioni, dunque, si registrano tra i millennials, fermi al 30%. Differenze anche sui casus belli, se un quarto della generale decimo si lamenta dei parcheggi selvaggi e un boomer su quattro segnala ritardi nel pagamento delle spese condominali. Per la gennaio Z è motivo di lite anche la gestione delle biciclette. Per gran parte degli italiani, però, l'importante, nel bene o nel male, è che se parli. O meglio, che se ne discuta. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.